È un evento che consiste in un wallscape per le vie cittadine, abbinato a due esposizioni documentarie, una all'Archivio di Stato e una in Biblioteca Oliveriana. Il titolo di questa iniziativa è Principalmente alle cose patrie, filantropi e mecenati della cultura a Pesaro tra XVIII e XIX secolo. Abbiamo riflettuto sul tema che è stato proposto a livello europeo, che era quello dell'eredità sostenibile, del patrimonio culturale sostenibile. E l'abbiamo calato nella realtà pesarese, riflettendo sui personaggi, sui benefattori della cultura per la nostra città. Il tema che si affronta in questa giornata del patrimonio è quello di ricordare i filantropi e i mecenati che hanno contribuito all'arricchimento culturale della città di Pesaro. Ovviamente non potevamo dimenticare i nostri fondatori, in particolare Annibale Olivieri, ma anche Giovanni Battista Passeri, che hanno fatto sì che la Biblioteca e i Musei Oliveriani nascessero a fine del Settecento, ma insieme a loro ricorderemo anche tanti altri personaggi che sono vissuti prima o anche dopo e che hanno lasciato alla città di Pesaro, alla Biblioteca Oliveriana, ma in realtà alla città di Pesaro e tutti i cittadini pesaresi, le loro raccolte culturali. Sarà possibile quindi in questa occasione ricordare ad esempio anche un'altra famiglia, la famiglia Antaldi, che è stata importantissima a Pesaro e in particolare Ciro Antandi-Santinelli, che a fine Ottocento ha lasciato a lento Livieri una ricca raccolta documentaria e anche di oggetti importanti che vale la pena appunto ricordare a tutti i cittadini, anche a quelli che magari sono meno abituati a frequentare le sale della Biblioteca, ma che grazie a queste iniziative potranno conoscerci o riscoprirci. È un modo per vedere in modo diverso, con occhi diversi, ciò che visitiamo, ciò che guardiamo e in questo caso è proprio il fulcro del tema che è stato dato dal Ministero e da tutta la cultura internazionale. L'accessibilità, la sostenibilità è intesa proprio come coinvolgimento, coinvolgimento non soltanto da studiosi, non soltanto da persone specialistiche, ma coinvolgimento a 360 gradi anche emotivo al tema, e al tema una collezione. E quindi per noi è il nostro pane quotidiano, cioè noi abbiamo sempre fatto questo, abbiamo sempre cercato di trasformare delle fonti storiche, quindi dei dati certi, non inventati, non storielline, e in questo caso le fonti storiche sono dell'Oliveriana e del Cracchivio di Stato, quindi siamo assolutamente sicuri, in una storia, in una narrazione, in un racconto che cerchiamo di fare in maniera molto leggera, molto piacevole, ma non semplificato, non banalizzato. Quindi Wallscape è proprio guardare in modo diverso il paesaggio, che in questo caso è il paesaggio urbano. E guardarlo attraverso questo tema. In che modo tra 7 e 800 Pesaro abbia avuto un grande contributo verso l'accessibilità, la cultura, questo ce lo dicono i documenti, noi cercheremo di raccontarlo, e cerchiamo di farlo ogni volta che organizziamo un Wallscape. Date e orario del Wallscape? Alle 17 ci incontriamo davanti a Palazzo Mazzolari Mosca, in Via Rossini, e poi partiamo per poche tappe, le ultime due tappe saranno la Biblioteca Oliveriana e l'Archivio di Stato, perché lì dedicheremo un po' più di tempo alla visione dei documenti.